In fila, ordinati, modalità drive-in, evitando code, disagi e spese in farmacia che per molte famiglie sono diventate davvero insostenibili. Volontari della Croce Rossa in campo a Villanova del Battista, grazie alla solidarietà di un emigrante residente in Germania, a cui è stato rivolto un grazie sincero da parte della popolazione a partire dal sindaco. Oramai i contagi stanno aumentando e spero che si riesca a contenerli, ma soprattutto spero che riusciamo a fare i tracciamenti, perché è questa la cosa più importante da fare in questo momento. Tamponi gentilmente offerti da Giovanni Ciccona, a cui va tutto il ringraziamento da parte della popolazione. Ci tengo a ringraziare anche tutti i volontari della Croce Rossa, in particolar modo Gino Pippo che ci ha offerto anche questi gazebi per poter far passare le auto, Pasqualino e tutti gli altri. Veramente è stata una bella iniziativa, speriamo un po' di alginare il contagio visto l'aumento dei casi in Irpinio. Abbiamo deciso di fare questi tamponi gratuiti per la popolazione, in collaborazione con il signor Ciccone, che è sempre pronto a sponsorizzare iniziative a favore della popolazione. Sbalcesto. Sì, sì. Speriamo che il suo esempio venga seguito anche da altre persone e speriamo che stamattina risultino tutti negativi.